Brebemi vuole rispettare il suo cronoprogramma, ossia continuare nei lavori e rispettare il termine del 31-12-2013 per ultimare i lavori. Abbiamo avuto questa riunione proprio ieri pomeriggio, all'ordine del giorno avevamo la realizzazione della rotonda in Viale Aldo Moro, una rotonda molto importante in quanto dà una maggiore sicurezza quando sarà realizzata la bretella dell'autostrada Brebemi che collegherà l'uscita con il PIP e quindi la città di Treviglio. È stato dal punto di vista economico, sono state trovate le risorse quindi ci sarà la normale procedura per la candierizzazione dell'opera. L'altro punto che abbiamo affrontato è quello di dare continuità a via del bosco. Ieri abbiamo raggiunto l'accordo tecnico sulla progettazione del sovrappasso, sarà alto circa 9 metri, largo 6. Adesso bisogna trovare le risorse economiche, questo è l'impegno di Brebemi e dopo di che ci incontreremo.